Si mobilita il coordinamento No G7 Pescara con una catena umana stamani sul ponte del mare per dire giù le mani dal Libano e dalla Palestina. Alla iniziativa hanno aderito partiti, sindacati, associazioni ma anche singoli cittadini per dire sì forte alla pace e al disarmo. La catena umana in solidarietà con le popolazioni civili della Palestina e del Libano ha avuto l'obiettivo di chiedere, dicono gli organizzatori, l'immediato cessate il fuoco e lo stop di ogni guerra in un territorio martoriato ormai da troppo tempo, prefigurandosi come un'azione di protesta civile non violenta per dare anche noi sul nostro territorio un segnale di rifiuto della totale disumanizzazione e cui stiamo assistendo inermi. Silente messaggio di orrore, richiesta di pace, lanciati simbolicamente dal ponte del mare a Pescara, vestiti di nero con le mani colorate di rosso, una catena umana simbolo del lutto per le vittime innocenti di ogni guerra. Iniziativa promossa tra gli altri da CAM Lecce dell'Associazione Deposito dei Segni. Insieme con altre associazioni e anche rappresentanze sindacali e politiche della città abbiamo organizzato questa manifestazione per protestare contro questo genocidio in atto e per dire stop armi a Israele, stop guerra da parte di Israele, sulla popolazione civile di Gaza, su uno stato sovrano che è il Libano perché per tutte le controversie, anche le più terribili, esiste un diritto internazionale che è stato istituito dopo la seconda guerra mondiale affinché non accadessero più queste carneficine.